Siamo qui con Dani Vagnato dello ODB Castelletto, è arrivata una sconfitta per 4-0, vi mangiate un po' le mani perché avete avuto voi la prima occasione della partita, l'avete sbagliata da lì, vi siete un po' dissolti da soli. Detto bene, all'inizio, i primi dieci minuti non stavamo giocando male, li abbiamo messi sotto, ovvio poi non sono lì per caso, sono veramente una bella squadra, però il morale dopo aver sbagliato un'occasione del genere, ci è mancato il gol, poi sul 4-1 ho sbagliato anche un gol che potevo fare tranquillamente, ho sbagliato e sarà per la prossima. Cosa sta succedendo quest'anno? Come mai la DB non riesce a ingannare? Guarda, è la domanda che ci stanno facendo un po' tutti perché comunque rispetto all'anno scorso, secondo il mio parere, anche secondo quello di tutti noi, singolarmente abbiamo qualcosa in più dall'anno scorso, però abbiamo visto anche che molte squadre sono veramente ben attrezzate e noi ci sta mancando un po' il gioco sinceramente in questo momento, speriamo che ci vada meglio il giro di ritorno, questa è la prima di ritorno, speriamo che giri qualcosa a favore nostro perché anche l'andata abbiamo veramente avuto tanta sfortuna, tanta sfortuna anche dei meriti nostri perché non è che siamo 10 punti e ne meritavamo 40, no, c'è stata tanta sfortuna ma tanto anche mancato da parte nostra, quindi dobbiamo metterci sotto e cercare di salvarci, tentare di salvarci, io sono fiducioso alla fine, speriamo di farcela, va benissimo così, speriamo di farcela, bocca al lugo per tutto il gioco, grazie, grazie, grazie mille